L'anno scorso avevamo trovato un certo equilibrio con Giovinco, che era un giocatore che faceva gol, faceva assist, saltava l'uomo e in questo equilibrio c'era una squadra che li girava intorno, cercavamo soprattutto lui per poi poter cominciare a voler il nostro gioco offensivo. Quest'anno dobbiamo capire che non c'è più, come ha detto te, e cercare di magari di arrivarci più con la manovra a concludere, perché ci sono due giocatori davanti differenti, però stiamo lavorando a livello tattico su questo, è con utile pensare come era il primo Giovinco, il Giovinco non c'è più, ci sono altri giocatori con altre caratteristiche e il Miste sta cercando di proporre un'identità a questa squadra che sfrutti le loro caratteristiche. In questo momento abbiamo fatto un po' più di fatica, però ci lavoriamo sopra, cerchiamo di trovare quell'equilibrio di squadra che avevamo l'anno scorso, perché naturalmente con tanti arrivi nuovi non è facile risolverlo da subito.